Offerta Zero Pensieri, un sistema di riposo completo composto da BioComfort, il materasso matrimoniale con superficie massaggiante in lattice e un rivestimento sfoderabile e lavabile, più una rete a doghe in legno con sistema di sollevamento automatizzato a soli 239 euro. Non ti basta? E Marion ti aggiunge un omaggio. Potrai scegliere infatti fra un set notte composto da due lenzuola, due federe per cuscini e uno splendido piumone, oppure l'elegantissimo servizio di piatti da 18 pezzi che Marion ha realizzato in collaborazione con Tognana. Il valore commerciale di questo sistema di riposo è di 800 euro, ma con zero pensieri godi di uno sconto del 70% e oggi lo paghi 239 euro. Allora ricorda bene, 239 euro o se preferisci, 12 rate da 19 euro e 90 centesimi a tasso zero e la prima rata la paghi dopo tre mesi. Chiamare ora non ti impegnerà all'acquisto. Con la chiamata chiederai solo la visita gratuita e senza impegno di un consulente Marion che ti farà toccare con mano la qualità di questo sistema di riposo. E allora non hai più scuse. La qualità della vita tua e dei tuoi cari dipende da come dormi. Digita il numero in sovraimpressione e chiama Marion. Soluzioni per dormire. Andercatta, l'oro di legno in prima tv assoluta. Questa sera alle 21.25 su T-Max, canale 52. Sapete qual è il segreto della nostra birra? Le migliori varietà di luppolo. Non solo, è l'unione di diversi ingredienti a rendere la nostra quattro luppoli perfetta. Come i vostri momenti. Birrificio Angelo Poritti, maestri del luppolo. I materassi M sono i più premiati in Italia per qualità e innovazione. Ordina ora e prova tu stesso. Solo questa settimana sconti fino al 60%. Vai sul sito emmamaterasso.it e risvegliati come il sempre sognato. Se potessi vedere dentro la tua lavatrice scopriresti che lo sporco e i batteri si annidano ovunque. Usa sole cura lavatrice igienizzante una volta al mese a ciclo vuoto. Rimuove lo sporco più nascosto per un bucato sempre profumato di pulito. Sole per la cura della tua lavatrice. Questa si chiama Meraviglia. che mi piglia e scompiglia. Aveo colori do sole. Aveo sapori do mari. Quando Macalo mi sento tutto priato per chi ti lascia senza ciato. Birra Messina a cristalli di sale. La Sicilia si sente. Sto preparando le cose che ho venduto su subito. Questo va a Venezia, quello a Merano. Che giro assurdo. Ma che ti immagini? Con il servizio tutto subito vendere è gratuito e il corriere ritira a domicilio. Ora c'è tutto. Tutto subito. Anche le case. Sono Heise Nodel. Visiterò alcuni dei luoghi più selvaggi del mondo. Vi mostrerò le tecniche di sopravvivenza estrema. In Prima TV. Sopravvivenza estrema. Dal lunedì 13 giugno alle 21 e 25 su D-Max. Canale 52. Ho fatto due conti e hai ancora molta strada da fare. In questo episodio. Ho fatto due conti e ho vanno that way.